Ma come in questo momento noi verifichiamo come l'attività delle organizzazioni come l'AMPAS nel nostro Paese svolgono direi una duplice funzione molto importante. Intanto ormai la crisi dello Stato sociale possiamo ben definirla irreversibile, le risorse pubbliche che vengono destinati a bisogni di carattere sociale, che peraltro sono bisogni urgenti, impellenti, non differibili, gli anziani, la disabilità, le persone a rischio di esclusione sociale, questi bisogni non trovano più una risposta da parte delle risorse pubbliche e quindi le organizzazioni come l'AMPAS, il mondo più vasto per nostra fortuna del volontariato, del terzo settore, dei cosiddetti corpi sociali intermedi, del privato sociale, svolgono una funzione insostituibile perché lo Stato di disagio e possiamo pure dire di disgregazione sociale sarebbe ben più ampio se non ci fosse questa realtà positiva rappresentato dalla vostra organizzazione e da altre organizzazioni che non solo fanno sussidiarietà, ma credo che in molti casi, credo si possa dire, fanno anche supplenza alla carenza dell'intervento pubblico, quindi sotto questo aspetto, in questo momento la partecipazione è un elemento decisivo, determinante per dare risposte ai bisogni sociali finalizzati a quell'obiettivo della coesione sociale che vuole dire consentire a ciascuno nella sua comunità, nel suo ambiente di vita di lavoro di sentirsi realizzato, di sentirsi bene, di sentirsi in una condizione di forte partecipazione alla propria comunità.